Ben ritrovati amici del Centrometro Italiano. Alta pressione meno presente e più temporali sulla nostra penisola. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per mercoledì 4 settembre. Nulo si dà irregolare al mattino con piogge sparse al nord ovest e sui settori tirrenici del sud, più asciutto altrove. Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazioni e temporali sparsi sulle zone interne, localmente anche intensi. In serata è notata maltempo in arrivo al nord ovest con precipitazioni diffuse, piogge anche su Toscana, Lazio e Sardegna. Temperature in calo al centro sud e lieve rialzo al nord, massime stabili o in lieve diminuzione. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.